Buongiorno e bentrovati, oggi parliamo di Assessment IT e ne parliamo con Nunzio Iaccheo, fondatore di Inservizi IT. Buongiorno Nunzio. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Senti, a proposito di Assessment IT, tu hai già una piattaforma di gestione remota e la domanda è questa, perché pur avendo una piattaforma, un tool per lavorare in remoto, hai scelto di acquisire uno strumento di IT assessment specifico come Rapid Fire Tools, non bastava già la piattaforma? Allora, la piattaforma, in generale, credo che quasi tutte le piattaforme, posso asserire con certezza, hanno bisogno di un agent, quindi io per fare assessment in un impianto piccolo, medio, grande, ho bisogno di N agenti da distribuire all'interno del nostro network per poi poter fare l'IT assessment, oltre al discorso che la piattaforma che utilizziamo noi, la reportistica è abbastanza complessa, quindi riuscire ad avere un risultato pulito, felice, in poco tempo, non è sempre così con la piattaforma che abbiamo e quindi nel visionare la facilità d'uso di Rapid Fire Tools abbiamo scelto questo prodotto e provato sul campo, effettivamente i risultati sono ottimi. Ecco, ha parlato di provare sul campo, quindi diciamo così, hai scelto Rapid Fire Tools perché la piattaforma di lavoro che utilizzi oggi funziona, ma per fare nello specifico assessment è un po' macchinosa. Esatto. Un esempio pratico, qual è un'occasione specifica in cui l'hai utilizzato? Allora, noi specifica l'abbiamo utilizzato da un cliente acquisito da poco, nel nostro caso abbiamo utilizzato Rapid Fire Tools per fare una diagnosi della rete e vedere qual era lo stato della rete, anche perché non erano molto note le, diciamo, l'intera infrastruttura e vedere dove erano le eventuali lacune, problemi, falle di sistema e cosa c'era effettivamente installato sulle varie macchine e diciamo che nell'arco di poco tempo abbiamo ottenuto la diagnosi dell'intera infrastruttura e ci siamo resi conto di alcune cose che il cliente non ci aveva detto sulla presenza di macchine o di apparati all'interno del network e con questo abbiamo, diciamo, ritarato tutto quello che era sia l'offerta per la gestione dell'impianto sia fisicamente applicate delle nuove policy di controllo. Ecco, meno male che hai citato la parola offerta, perché la mia domanda, la mia curiosità è questa, cioè senza entrare nel dettaglio dei moduli che tu hai acquistato, quindi dei soldi che ci hai dato, però hai speso qualche mille euro per Rapid Fire Tools, come conti di recuperare questa spesa? Cioè tu hai fatto questo investimento perché in qualche modo pensi di recuperarlo? Come? Allora, noi l'utilizzo che ne facciamo e quindi in soldoni quello che riusciamo a recuperare, allora, uno abbiamo deciso di utilizzarlo nell'analisi dei clienti prospect, quando andiamo contattati o contattiamo noi dei clienti per poter fare l'acquisizione della gestione dell'impianto, prima dell'utilizzo dei Rapid Fire Tools andavamo un po' così, devi fare il giro dell'impianto, parte al referente interno e non sempre riuscivi a catturare, a fare una fotografia dell'impianto al primo incontro, era sempre un continuare a ritarare la cosa, per cui noi abbiamo deciso di usare questo tools e investire in realtà in immagine, noi con il nostro commerciale arriva col suo pennino e chiede la possibilità di poter fare le diagnosi dell'impianto con il software, ovviamente insieme al referente, noi a questo punto abbiamo un'immagine dell'impianto, possiamo fare un'offerta tarata sulla reale infrastruttura del cliente e di solito questo report non lo lasciamo, proprio come discorso di chiarezza nel discorso con loro, in modo tale che loro domani sanno esattamente cosa hanno in mano e ci pregiamo il fatto di lasciargli un documento che in realtà attesta lo vero stato della loro rete, questo è uno dei motivi per cui abbiamo preso in realtà arrivare a qualcosa che non è di parte, mettiamola così e che come immagine ci dà la possibilità di poter avere un occhio di riguardo in più verso il cliente. L'altro sistema di recupero dell'investimento è che noi ad alcuni clienti o partner con cui collaboriamo abbiamo offerto un servizio di audit, di assessment degli impianti che gestiamo per conto loro, quindi conto terzi, loro hanno un documento di utilizzare al loro cliente. Siccome una reportistica permette di essere personalizzata, noi alla fine il report lo presentiamo con il logo e le impostazioni del partner con cui stiamo facendo l'attività, quindi in questo modo noi recuperiamo anche il pari dell'investimento fatto. Oltre al fatto che ci controlliamo anche su alcuni impianti, lo facciamo anche su alcuni impianti che seguiamo noi, in realtà controlliamo se tutte le procedure che abbiamo stabilito con quel cliente vengono rispettate in modo tale da evitare eventuali reclami. Chiarissimo, quindi diciamo così c'è una triplice valenza, uno lato vostro sapere dove andate a mettere le mani sia su clienti nuovi sia su clienti acquisiti, valore per il prospect perché comunque ha in mano un documento formale nel quale si dice lo stato della rete e ultimo punto lavorazioni conto terzi come le chiamate tu, il vostro partner può consegnare al cliente che è un rep ufficiale. Senti, domandona finale dalle 100 pistole, che cosa consigli a chi si occupa di IT, a uno che fa il vostro stesso mestiere, che cosa gli consigli per l'IT assessment? Cioè perché dovrebbe acquistare e usare questo strumento? Che cosa hai in più di altre piattaforme? Allora, rispetto alle piattaforme, semplicità d'uso, invasivo zero, facilmente trasportabile perché ci sta su una pennina, è un applicativo semplicissimo, fa la raccolta dati e io in mano i dati dell'intera infrastruttura e buon bietto da visita contro la concorrenza, quindi alla fine con poco impegno uno riesce anche volendo ad acquisire clienti di altri, quindi come dire, ci facciamo un po' la guerra. Chiarissimo, grazie per questi suggerimenti. Allora, noi non vogliamo rubarti altro tempo e ti auguriamo buon lavoro naturalmente con Rapid Fire Tools. Grazie Nunzio. Grazie a voi, buona giornata.